Ciao a tutti! Dopo una grandissima giornata di snowboard, io e il mio socio Cuoco Simone vi spiegheremo come preparare un bellissimo piatto di carbonara Primo passo far saltare la pancetta Punto 2 sbattere le uova Punto 3 far bollire l'acqua Punto 4 buttare la pasta Se avete seguito tutti i nostri fantastici consigli otterrete questo splendido, buonissimo piatto di penne alla carbonara Un saluto a tutti da Danny e Simone in cucina Al prossimo piatto!